Per è successa una cosa terribile, si è scatenato una maledizione nel mondo di Minecraft Ok, Stef I blocchi hanno un qualcosa di molto molto strano, lo so che ti sembrano normali Stef, sono tutti normali, sono lì pronti a essere minati, ma cosa c'è di strano? Io prima ho provato a minarne alcuni ed è successa una roba particolare, però ho notato che non sono tutti Quindi inizia a prenderne alcuni Infatti Stef non sta succedendo niente, cioè secondo me non è vera questa cosa che stai dicendo Guarda, è tutta po... Stef, Stef mi sta picchiando, aiuto! Scaffa io! Stef, aiuto! Uccidilo Stef! Oddio, oddio all'esercito Stef! Stef, all'esercito di blocchi vivi scappa! E ragazzi, come va? Io sono Ferinich E sono Stef, che si chiama Minecraft E perverote in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui dovremmo affrontare una maledizione a quanto mi dici Stef Esatto, allora Ferinich ti devo spiegare un pochettino la situazione Ok A quanto pare i blocchi di Minecraft sono diventati tutti vivi Uno ad uno, tutti quelli che vedi sono vivi, infatti li ho già preparati lì Perché quello è il nostro compito Il nostro compito è sconfiggerli tutti, ma soprattutto trovare le parti di un boss Che è colui che ha appunto portato la maledizione Ma pure! Trovare tutti e quattro i suoi pezzi Evocarlo, sconfiggerlo e togliere questa maledizione terribile dal mondo Perché non è possibile che ogni volta che vai a minare Ti iniziare a picchiare e a massacrare le botte È abbastanza fastidioso Stef Quindi, prima di tutto dobbiamo iniziare a minare tutti e ammazzare tutti quelli che troviamo Dopodiché trovare le parti ed evocare un boss che Ferinich ti dico Allora, allora, è così gigante Così quanto Stef? Così Ferinich Allora, questa montagna, più o meno Come più o meno? Fatto di tutti i blocchi di Minecraft Bello tozzo gigante Addirittura alcune fasi Tira fiammate Un casino Ferinich È molto strano da immaginare descritto in solo Stef Sì, sì, ci pensiamo dopo Io vado eh Sinceramente spero Ferinich ne ho già trovato una, porca miseria Ma perché ne va a avere tutta sta sfiga? Te lo tini tu quello, te lo tini tu Ok, è morto Ma quanto sono forti poi? Ti rendi conto Sono forti Anche perché ovviamente in base al blocco sono più o meno forti Eh, immaginavo, immaginavo Questi Ferinich sono i più scarsi Bene Ok, partiamo alla grande proprio Stef! Mi ha dato questo, non so se può essere utile Primo pezzo Primo pezzo su quattro Ferinich Complimenti, sei stata bravissima Grazie, è sempre a me la fortuna Non so se il carbone ci potrà dare altri pezzi del boss O se ogni pezzo lo possiamo trovare da vari tipi di minerali Ma io lo finirei per sicurezza Anche perché poi ci attaccano alle spalle Eccolo lì, eccolo lì Porca miseria Picchialo Stef, picchialo Porca miseria Maschiata, per favore Ok Ferinich ma questo è un altro pezzo? Fammi vedere Boss Fragment numero due Perfetto Ok, stiamo andando alla grande Stiamo andando alla grande Ehi, calmati Eh, va bene Mi ho già trovato un altro Ferinich Ma sbaglio che questo coso ci salta addosso? Sono velocissimi Sono velocissimi Ferinich Per aiuto Oh mamma mia Calmati un attimo Allora non mi ha dato niente Ha te dato qualcosa Che ti succede? L'ho buttato giù dal dirubo Ma come? Guarda, vieni a vederlo Vieni a vederlo E lì Arrabbiatissimo che si muove Guarda Ah l'ho visto Vabbè Però Steph Dobbiamo ottenere i pezzi Non li puoi buttare di sotto Scusa Beh, beh, beh Mi stava buttando a me di sotto Quindi l'ho soltanto spinto Non era una cosa fatta intenzionale Sono molto più veloci e cattivi Guardalo, 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 guardalo Non riesco a prenderlo Non riesco a prenderlo È troppo E siamo ancora solo al ferro Però ora poi Non mi hanno neanche dato un pezzo Quindi comunque Sto solo prendendo cefoni In questo momento Beh, è bello prendere cefoni Aiuto, aiuto Poi Steph Mi sembra che ci sono molti di più Ma è solo capitando un sacco No No Lasciami in pace Ok Tutto bene Tutto bene anche a me No, 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 no Ok Lo attacco Ma il mio è incastrato? Ah Perfetto Allora, non mi è sembrata troppa differenza Da quelli del ferro Cioè, veloci anche questi Però non mi è sembrato che il danno fosse esageratamente di più Capito? No, io non ho provato Perché praticamente il mio è rimasto incastrato E quindi l'ho potuto ammazzare facile No Questo corre Come se corre? Fermati Sì, 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 sì Io l'ho steso, l'ho steso No, non mi sembrano particolarmente forti Ma d'altronde I lapis sappiamo bene che non è una roba rarissima Quindi non mi stupisce E non piacciono a nessuno i lapis Il problema è che adesso poi avremo la redstone Poi abbiamo il quartz del nether Poi abbiamo il gold Poi il diamante E poi lo smeraldo Ok Fa sempre più difficile, Steph Fa sempre più difficile Lo so Lo so L'oro inizia a essere pericoloso Di oro, esatto Inizio ad avere un pochettino paura Non so come saranno E mi spaventa, Steph Magari è come la redstone Che direttamente non capita Per ora niente Lo so Anche io Iniziamo ad aver neminati tanti Te lo dico Oh, oh, oh Questo è vivo Questo è vivo Sembra tranquillo Sì Insomma Bastante È soltanto perché era un po' incastrato Esatto Facerti sprint Che peggio ti hai dato, Fer No, sempre l'uno Io trovo sempre solo l'uno Ho notato Ho tre pezzi dell'uno Basta, non ho altro No, Fer Guarda con te veloce questo maledetto Lasciami in pace È inizio ad essere cattivi Ma lasciami in pace Ok, l'ho steso, l'ho steso Mamma mia che fatica Anche l'oro è finito È il momento del diamante Io ne minuno proprio al centro Così nel caso rimani incastrato Ok Mi sembra una buona tattica Io minuno e mi sposto Perché non si sa mai Oh no, l'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato È molto veloce È molto veloce Ed è molto forte al momento Mi sta togliendo Oh mamma mia Serve una mano? Ti dico maledetto Oh cavolo, cavolo Me ne è sbucato uno L'improvviso Non me ne ero accorta Ti dico che mi hai lasciato A due cori e mezzo E l'ero fulvita Io sto morendo Io sto morta Perché praticamente Ti stavo guardando Volevo venire da te Mi ha attaccato alle spalle Perché non mi era accorta Che fosse vivo E sono morta Steph Sì ma me l'hai lasciato a me Sono morta Sono a due cori No Sto tornando Sto tornando Dove sono tutte le mie cose? Un cuore di vita Era rimasto Per colpa tua Vai a recuperare i tuoi oggetti Non minare più nulla Fino a quando Non sei fulvita Eccetera eccetera Perché questa roba Inizia ad essere davvero forte E Ferre ci manca ancora un pezzo Se non troviamo il pezzo qua Ci tocca tornare indietro E minare tutto quello Che abbiamo lasciato Per trovare il quarto pezzo Eh sì Sarebbe una roba drastica Ferre ce la fai? No Ferre non mi morire Sono troppo forti Steph Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sono qualcosa di incredibile Cavolo Cioè passi da quelli Che sono abbastanza tranquilli E dici sì ok Ma la sto cavando Sì ma Poi arrivano questi Questi non fa fronteggiare Quelli di Smeraldo sono peggio Peggio di questi Mamma mia Sì sì Sono ancora più forti Questi qua non sono i più forti No 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 Non sono niente fulvita Non ho rigenerazione Stai calmo Ferre mi dai una mano Eh aspetta Steph Ne ho trovato uno anche in questo momento Ok non ce l'ho fatta Ti aiuto ti aiuto Bisogna aiutarsi In questi momenti Sì mi sa che li dobbiamo fare assieme Perché non fa farli Molto più facile così Aiuto L'ho trovato però Steph L'hai trovato? Sì Allora aspetta So che sei un attimino impegnato Però guarda Allora L'ultimo che ho fatto me l'ha dato Io ho il 2 Che è questo qua Ok Ok E il 4 Io ho l'1 E il 3 Giusto Sì 3 e 1 Abbiamo trovato pari di dispari Ok Quindi abbiamo tutto per evocare il boss Eh però ormai voglio fare anche quelli di Smeraldo Ma dobbiamo fare quelli di Smeraldo Assolutamente So che non ce lo fa fare nessuno Perché mi hai detto che sono anche più forti Però io mi mangio una bella bistecca E ci provo Aspetta Perché sono curioso E voglio vedere come sono Ok Ho finito anche qua Sei pronta? Sì Andiamo Ok Ok Non è andato Ok Io mangio un attimo Oh cavolo è questo Steph È capitato? Sì È questo Ok Buona fortuna E beh Se si incastra è un po' più semplice dai Almeno ti è andata bene Oddio Allora Non muore Cavolo Steph Aiuto No mi uccide Mi uccide Oh mamma mia ce l'ho fatta È forte Uno tu e uno io Oh mio dio Ferri ti è andato addosso Porca miseria Scusami Ti proteggo Te lo giuro Sei morta vero? È certo Ne avevo due Sono forti Poi sono velocissimi Uno l'ho stesso Comunque Basta Basta Evocchiamo il boss Basta Ok Mi sono rotta le scatole di questi blocchi Comunque abbiamo tutti i pezzi E mi raccomando raccoglili Perché se no li perdiamo No vabbè Non sto raccogliendo nulla Ti riprendi tutto tu Ok Perché altrimenti poi ti devo passare tutte le cose Evocchiamo il boss E vediamo come va Non ho ben idea di come si crafti Ma sto guardando un attimino Siamo Steph Allora È una roba complicatissima Devo mettere questo qua giù Poi devo mettere questo su Ok Questo qua Questo qua Ce l'abbiamo fatta? Sì Fai vedere? Lo vedi? Eh vabbè ma è gigante Steph È più grande di te questa cosa Enorme Non lo so Che facciamo? Lo evochiamo? E beh Fere È l'unica Oddio Allora aspetta Io mi ero preparato due mele d'oro Tienine una Ah ok grazie Ok Perché credo Che ci sarà bisogno Io appena lo vedo mangio eh Te lo dico No 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 Scappa Steph Scappa Io lo sto Io sto usando le frecce per ora Ok anche io Anche perché Ma è bruttissimo Guarda lì la faccia Sì 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 È super cattivo Ma poi Steph Ha fatto una cosa Alle mutande Cioè se tu guardi sotto Alle mutande Allora i diamanti Sono chiaramente i pettorali Quindi i muscoli Loro l'addominale E poi le mutande Però Ed è la cosa che mi fa più ridere Steph Stavo per dire Sembra pacifico Ma no 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 Non lo è Allora Mi ha tirato una fireball in faccia C'è una palla di fuoco Amico Amico pacciamore Ok Calmati un attimino Dai Se può dare soltanto Colpi di fireball È meglio colpirlo Mili È quello che stavo pensando Sì 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 hai ragione Perché così lo stiamo massacrando Fred lo stiamo massacrando Guarda la vita come scende Sì più o meno Ma amico Sei scarso allora È bellissimo Ma sei scarsissimo Ma ti distruggiamo Ma che cosa Maledizioni e maledizioni Ma por favor Steph hai detto che ha più fasi Quindi non voglio Ma se ne schiappa Immaginare quale sia l'altra fase Smettile e non lo disturbare Non credo che si riconoscerà neanche Anche perché i cuori della maladora A me stanno finendo Dato che prima ho preso una Una palla di fuoco in faccia No io non li ho mangiati Lo sai Come non li mangiati Eh no perché ho pensato Che magari le fasi successive Non più complesse No io lo mando Fred, 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 Fred Oh cavolo Steph Perché sta facendo scintilline È radioattivo Steph Sta lanciando palle di neve E frecce Non lo so Sì Non capisco che vuole fare Steph aiuto Sì sì Oddio 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 all'esercito Steph Steph all'esercito Di blocchi vivi Scappa Steph no 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 Questa è la fine È la fine Steph Ti ho voluto bene Sapilo Ma qui è il giorno in cui moriremo E i consolini assisteranno Alla nostra triste morte Ma non può passare Alla una roba del genere Porca miseria Così è troppo No Steph Sto anche morendo Perché sti blocchi sono forti Io mi sono mangiato adesso La mela d'oro Così dovrei reggere Però No io sono morta Cioè avevo Avevo un esercito di blocchi addosso Lo so Cioè non ho potuto fare niente Perché mi sono corsi tutti Tutti addosso Che devo fare No 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 Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto morendo Cioè è a malapena Metta vita Io sono già morta È impossibile Bene Aspetta che torno Torno Io sto cercando di ammazzarli Oh cavolo cavolo aiuto aiuto Il discorso è Ne spawn altri Perché Ci sto mettendo sei mesi A killare tutti questi blocchi Non lo so Qual è la fase 3 Steph Non lo voglio sapere Perché è già fortissimo così Che dobbiamo fare Però Non credo ci sia ancora no Io gli tiro un'altra freccia Vado Oh mamma mia Mi stava Ecco Davolo Steph è rosso Ci siamo Oddio aiuto Mi ha caricato Steph Aiuto Fere sta tirando a raffica Non è possibile I fulmini È diventato un dio del fulmine Non è possibile Io li colpisco Io sto bruciando Sto bruciando Ma hai notato che con le frecce Non prende quasi più danno Steph Davvero? Prima prendeva un botto di danno Ora praticamente non lo prende Cavolo è difficilissimo Oh mio dio Dove sono le mie bistecche Ho bisogno di mangiare Mi sta guardando male Mi sta guardando male Dimmi che non ce l'hai con me Dai Ok Ok Ci riprovo Steph È basso eh Sbucco da qui e ci riprovo Ha lanciato qualcosa Pochissimo danno adesso Schiatta Schiatta Dove è finito? Fere? Steph Dove è finito? Dove è andato? Non lo so Però c'è ancora la Steph è in acqua È dietro di te Dietro di te Oh mio dio Aiuto È inquietante sto cosa Vai ammazziamolo adesso Ammazziamolo adesso Fere Dai che basso Dai che basso Vai 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 Valedetto Tira quelle frecce Steph Disgraziato Vai Steph Disgraziato Dai 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 Abbiamo fatto anche l'achievement Grazie per l'achievement È stata una passeggiata sconfiggerlo Steph Che vuoi che sia Avere Cos'è? Un calice dorato Non lo voglio io quello scusami È dorato No ma va rotto tipo Aspetta Provo È bello Vado Ok Forse non andava rotto Sì E ci ha dato solo dei Dei Come si dice Dei minerali Non ci ha dato molto altro Un po' di diamanti Un po' di altre cose Ragazzi Lasciateci un like Nella prima volta che vedete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao